Un altro baretto storico della bufera del litorale di Platamona, sotto la giurisdizione del comune di Sorso. A farne le spese questa volta è il bar Chiosco di Enas, che ha ricevuto un decreto di sequestro preventivo per presunti abusi edilizi dal Tribunale di Sassari. Un altro locale che ha dovuto abbassare la serranda, proprio all'inizio della stagione. Il provvedimento è stato notificato i primi di luglio e sul locale sono evidenti i sigilli della Procura, mentre al secondo e al sesto petire, in seguito alle ordinanze comunali di abbattimento del comune, le rusper hanno raso al suolo due strutture che, nonostante decenni di attività che vantavano, sono state buttate a terra perché non avevano rinnovato la concessione, inserendosi nel nuovo piano di utilizzo del litorale, elaborato dall'amministrazione comunale Sorsense. Inutili erano stati anche i ricorsi al TAR che avevano solo dilatato i tempi, ma non evitato la demolizione che è stata eseguita nelle scorse settimane. Con il nuovo strumento urbanistico, cioè chi non ha costruito i chioschi secondo le nuove regole e non ha presentato domanda di rinnovo, si è ritrovato di punto in bianco ad avere una struttura abusiva.